Alla fine viene confermato l'incontro con Gheddafi e lui dice no, un momento, è alle otto e mezzo, alle otto e mezzo gioca la regina, quindi proprio non c'è. E non credo. Mi pare che questo mi sapevo certezza che quello che ho detto era la pure semplice regina. Era la pure semplice regina, ma per una ragione semplicissima, da ticoso e da cittadino di Reggio Calabria. Era la prima volta che la regina andava in Serie A. Era la prima partita che la regina giocava in Serie A, la regina giocava con la Juventus e non veniva la partita.